Visita ufficiale questa mattina da parte del procuratore della Repubblica di Teramo, Antonio Guerriero, da pochi mesi alla guida dell'ufficio al comando provinciale dei Carabinieri. Sono qui insieme ai colleghi Auriemma, Rosati, Sciarretta, De Feis per rappresentare non il rispetto, non la stima, ma molto di più l'affetto che l'intera procura della Repubblica di Teramo ha per l'arma dei Carabinieri. La struttura costituita da comando provinciale, dalle compagnie, dalle stazioni rappresentano il tessuto nervoso dell'intera provincia di Teramo, rappresentano alcune delle maggiori istituzioni dello Stato, esprimono il respiro dello Stato sul territorio come istituzione, come rispetto della legalità. I modelli costituiti dall'arma dei Carabinieri rappresentano dei modelli per l'intera società e quindi sono qui per dire la nostra stima e il nostro affetto per l'arma dei Carabinieri, per attestare la collaborazione proficua che facciamo quotidianamente. Gran parte delle indagini che voi seguite sulla stampa sono sviluppate insieme all'arma dei Carabinieri. Quindi è un saluto affettuoso che faccio al colonnello a nome di tutta l'arma e per suo conto di tutta l'arma dei Carabinieri. Dopo il saluto del procuratore, il comandante della compagnia ha ringraziato per la vicinanza sempre dimostrata e per l'opera di indirizzo che la procura ha saputo dare anche in situazioni difficili, assicurando per il futuro la leale e stretta collaborazione con i magistrati. Noi nel personale, nei magistrati della procura di Teramo abbiamo sempre trovato un punto di riferimento e lavorare in sintonia, in sinergia, ritengo che sia forse la strategia vincente per poter raggiungere poi gli obiettivi che tutti ci prefissiamo per tutelare il territorio teramano, un territorio che è sano e che è nostro compito conservare sano da questo punto di vista. Quindi veramente la ringrazio delle belle parole nei confronti dell'arma dei Carabinieri. Grazie mille.